allora partiamo da voi la campagna acquisti del milano è fallimentare non avete preso nessuno di buono non siete i migliori dell'anno scorso voi ultimi sei gol del milan arrivati cinque da giocatori ne acquisti uno dal giocatore della primavera ricapitoliamo tolto il gol di giro con l'atalanta iovic pulisic cq e se rainders simice che della primavera e ocafor 6 gol 5 arrivati da 9 acquisti la campagna acquisti del milano non è non è sufficiente insomma è fallimentare perché non avete preso giocatori buoni o comunque migliori rispetto alla scorsa stagione giustissimo questo si aggiunge alla caterva di gol che abbiamo fatto in precedenza derivati dai nuovi acquisti che poi potessimo prendere giocatori migliori siamo d'accordo però direi che la campagna acquisti del milano non ha reso il milano più forte rispetto all'anno scorso la vedo un po una cazzata scusate il francesismo soprattutto quando mi dispiace ma a volte questa cosa viene spesso detta da tifosi non della mia squadra e qua mi tocca un po tirati le orecchie perché che il milano non sia forte o comunque sta rendendo molto meno di quel che potrebbe rendere siamo d'accordo però se il milano rende meno è colpa dell'allenatore perché questa la partita di oggi dimostra che i giocatori ci sono i giocatori ci sono tranne una punta perché la punta è quella che in toria dovrebbe fare gol e qua arriviamo al punto il milano oggi vince 3 a 0 fa una bellissima partita megnano fa un'altra delle solite parate criticato da cani e porci megnano continua la sua striscia di una parata incredibile a partita però questo non frega a nessuno perché megnano è un portiere perché ha fatto un mezzo errore contro contro bruce d'ortmund forse allora si cominciano a sparare sentenze su megnano che non stanno nei c'erano in terra perché giustamente gli alti e bassi ce li possono avere sui giocatori delle altre squadre vince 3 a 0 fa gol simice complimenti bel bel gol insomma attaccato bene lo spazio ha vissuto un sogno insomma ragazzo che mette piede a san silo perché si rompe un suo compagno di squadra e fa gol penso che è una cosa che vorrebbero vivere tutti e che veramente in pochi hanno vissuto ne parlavamo prima in live forse l'ultimo che ha vissuto una cosa del genere è stato paloschi da quel che ricordo nel milano e che dalla primavera all'esordio assoluto va a fare gol mi ricordo solo paloschi storia recente ovviamente perché del resto almeno per quanto riguarda ripeto il milan ricordo veramente veramente poco la partita comunque ripeto va avanti abbastanza bene si caga qualche gol anche il monza che però comunque non crea occasioni nette arriva al 3 0 di okafor sull'unica cosa che giro riesce a imbroccare in tutta la partita perché ripeto girù molte volte essenziale però ragazzi io è da più dell'anno scorso che dico che girù palla al piede è inutile girù o gioca di prima come ha fatto contro il newcastle o come ha fatto oggi che gli è praticamente arrivata la palla l'ha appoggiata per fare assist prima a pulisic poi a okafor o palo al piede ragazzi è veramente inutile il mio non oggi fa a quattro contropiedi chiari questa partita poteva finire 5 6 a 0 proprio senza mezzi termini 27 cacati uno dietro l'altro prima leao poi se l'è cacato ternandez poi se l'è cacato girù poi se l'è dove non è che c'è una scusa che la partita finisca 1 a 0 2 a 0 8 a 0 12 a 0 26 a 0 i contropiedi vanno buttati in porta non c'è cazzi perché l'internazionale fa tanti gol perché loro i contropiedi li sanno sfruttare loro quando quando gioca il derby no che vedo che quando gioca il derby mette massa sui sul mio canale giustamente prendiamo 4 gol su 5 che prendiamo dall'inter sono sempre di contropiede quando la palla ancora dall'altra parte del campo io capisco già che l'inter fa gol su contropiede hanno uno schema con vali con la dato sanno dove sono i compagni loro passano la palla ad occhi chiusi e l'ambucano gol di turam anche il anche il gol di di marco il gol di barella in super coppa possiamo fare un elenco unico di gol che prendiamo così contro di loro e che non riusciamo a replicare contro il monza non riusciamo ragazzi non riusciamo i contropiedi vanno buttati in porta non c'è cazzi no ci siamo spiegati perché il primo nasce da un individualismo il secondo nasce da un assist clamoroso di leao il terzo da una giocata ancora di randers che poi va bene perché fu affinché vinci va bene però analizziamo e se colpa un pochino di chi sta in panchina e io lui ce devo mettere sempre di mezzo perché chi sta a panchina dovrebbe un po dare delle disposizioni quando ci sono i contropiedi tu fai questo tu fai quello tu fai quello i giocatori dell'internazionale cosa fanno quando c'è un contropiede sanno già cosa devono fare i giocatori del milan non ne sono capaci poi lasciamo stare che loro hanno giocatori che saltano l'uomo eccetera eccetera che io con noi ciao ne però ripeto i contropiedi che tu sia contro il bayern monaco contro un manchester sito contro il monza contro il palermo contro la reggiana devono finire in porta perché poi ti capita la squadra che di contropiedi te ne da uno partita tipo quelle squadre che si chiudono faccio un nome a caso ludinese squadre che si chiudono giocano difese di contropiede te ne concedono uno lo sbagli perché lo sbagli ultima bastonata in confronti del capo supremo dell'allenatore più forte della storia simice giocatore che è tutto da scoprire che poteva tranquillamente esordire contro il frosinone dove è stata una partita anche abbastanza tranquilla no l'avete voluto fare esordire oggi perché si è rotto pobega se no col cazzo che sto qua andava a esordire trova il gol ora no ditemi voi cari esperti cosa sarebbe costato farlo giocare contro il frosinone e magari mandarlo in campo anche contro l'atalanta tanto contro l'atalanta peggio di così non potevamo fare con ternandez centrale che ho saputo che ternandez centrale è un insulto però contro il frosinone abbiamo vinto e allora ternandez bravo 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 il frosinone ha avuto due occasioni gol una miracolo strano di megnan e la seconda altro gol sulla dormita della difesa quindi secondo me ternandez centrale non ci deve stare però è il capo supremo che decide per chiudere ragazzi così finiamo l'analisi tre gol due infortuni pobega e ocafor vediamo chi è prossimo che si infortunerà contro la salernitana e considerate che questi due giocatori mancheranno per almeno un mese video molto breve oggi date tutto un bacione ci vediamo alla prossima sempre forza milan sempre pioli out ci vediamo per salernitana milan che sarà partita bella tosta e uscirà la live reaction domattina bacione ciao a tutti